Ecco, il mondo della notte, delle discoteche, della musica, dell'intrattenimento in genere sarà l'ultimo a ripartire. Quanta attenzione c'è stata nei vostri confronti, anche dal punto di vista dei ristori che avete ricevuto? Sì, abbiamo avuto poca poca attenzione, siamo stati anzi dimenticati, devo dire, dalle istituzioni, anche se abbiamo fatto pressioni, abbiamo lavorato, diciamo, giorno e notte per fare un protocollo scientifico che aiutasse alla nostra riapertura, concordandolo con i professori universitari Bassetti, Lopac e Locascio. Abbiamo dato un contributo, abbiamo proposto anche dei test, diciamo, uno a Milano, uno a Gallipoli, per provare appunto la riapertura, erano stati approvati anche dal sindaco Sala e dal presidente Emiliano, però Speranza non ci ha ascoltato, non ci ha risposto, diciamo, per cui non sono stati potuti effettuare perché non abbiamo avuto, diciamo, il consenso del ministro. Niente, speriamo ora mercoledì che c'è il Consiglio dei Ministri, ci diano la data di apertura con un protocollo, speriamo, un pochino più morbido e lascivo rispetto a quello che era stato il protocollo di due mesi fa, anche con il Green Pass, noi prevediamo, sì, da ulteriori garanzie, però a questo punto, secondo noi, con il pubblico che abbiamo, potremmo anche soprassedere al Green Pass. Ecco, niente, noi siamo pronti a ripartire. I ingressi contingentati, cioè avrete un numero specifico da fare entrare? Sì, anche quello ora vediamo come mercoledì decideranno i ministri, perché appunto il CTS ha dato le linee guida, ora saranno loro a decidere, saranno i ministri a decidere, speriamo che appunto ci lasciano un po' liberi di lavorare e di riaprire.